In piazza nazionale l'unico spazio per i bambini e per le bambine di quella che è una fetta importante del territorio comunale era distrutto e transennato. Le giostre da mesi non sono in funzione. A denunciarlo in un video di fine giugno 2023 era stato anche il consigliere municipale Armando Simeone. Da qualche giorno, come mostrano le immagini, le giostre sono oggetto di lavori di rimessa a nuovo. L'area è stata regolarmente transennata per consentire lo svolgimento dei lavori agli operai. entrati in campo sotto un sole cocente. In un'area degradata come quella di piazza nazionale, in cui l'occhio non può fare a meno di notare sporcizia, erbacce, graffiti invadenti, in ogni dove individui poco rassicuranti girare in piazza indisturbati, quelle giostrine, se rimesse in funzione, possono rappresentare quantomeno un simbolo da cui ripartire per quella che i residenti auspicano possa essere una bonifica totale della zona. Negli ultimi giorni dei vandili hanno inoltre strappato una parte della pavimentazione della piazza, mettendo a nudo il cemento. Ascoltiamo le parole dei residenti. Specialmente dentro la piazza non ci sta più un gioco per bambini. È una cosa assurda. Anzi, i bambini giocano tra le macerie. Ci vorrebbe un po' più di civiltà da parte del cittadino, del quartiere. Questo qua dovrebbe essere un quartiere rivalutato e rivisitato, dal motivo che ci sono già vetri a terra rotti, sporcizia ovunque. C'è violenza anche nelle cose che si fanno. Prima, insomma, era più pacifico. Finalmente, dopo mesi di battaglie, abbiamo ottenuto la canterizzazione di questo piccolo, quest'area giochi. Purtroppo la manutenzione manca, forse costa caro.